Cosa ha detto Sabrina Ferilli su Vanessa Incontrada? L'attrice romana ha parlato dei casi di body shaming alla collega. Sabrina Ferilli ha voluto parlare del caso mediatico attorno al corpo di Vanessa Incontrada, da quando il settimanale nuovo ha pubblicato le foto della conduttrice italo-spagnola in bikini, sul web, e non solo, si sono scatenati diversi commenti. C'è chi sostiene che la showgirl sia ingrassata e chi invece inneggia al body positive. Insomma, le solite polemiche della rete. L'attrice romana ha voluto parlare di quello che successe a lei anni fa. Leggi anche, Vanessa Incontrada e il compagno Rossano Laurini si sono lasciati? Lei rompe il silenzio Sabrina Ferilli parla di Vanessa Incontrada Sabrina Ferilli ha espresso solidarietà nei confronti di Vanessa Incontrada, suggerendo però che sarebbe meglio non dare troppo peso a queste polemiche sterili. L'attrice romana via social ha infatti dichiarato quanto segue, ma non è finita qui, l'attrice romana ha parlato anche di un'altra circostanza. Di recente, infatti, la conduttrice spagnola è apparsa sulla copertina del noto magazine al femminile Vanity Fair. Cosa ha detto la Ferilli in merito? Di seguito le parole sulla Incontrada. La copertina di Vanity Fair Vanity Fair ha dedicato a Vanessa Incontrada la sua nuova copertina, con tanto di titolo Sei bellissima. Anche in questo caso Sabrina Ferilli è intervenuta sulla collega, suggerendo che probabilmente anche la showgirl spagnola si è stancata delle notizie sul suo fisico e sugli insulti sui chili di troppo, Vanessa Incontrada non ha risposto alle parole di Sabrina Ferilli. Lo farà, lo scopriremo presto. Per il momento sul web tutto tace. Seguici su Instagram cliccando qui. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.